Dice lui quando vuoi parlare. Ok. Allora, cara sorella, ti trovo troppo innecchiata. Allora, vorrei vederti proprio qui a San Marco. A Roma. A Roma, a San Marco, a Santa Marinalla, dovunque. Insomma, mi ha fatto tanto piacere di vederti e sono felice. Ha detto quanti bel nipoti, la figlia. Mi è piaciuta la sorpresa del nipote che ci è venuto a trovare. Tutte queste cose qua che mi hanno fatto tanto piacere. E venite tutti, che nonna vi aspetta. Venite tutti, che casa mia è larga e lunga. Un bacio a tutti quanti. Ok. Un bacio a tutti. Ciao a tutti, a presto. Ciao, un bacio. Filomeno, veniamo presto, eh? Sì. Ciao a casa. Ciao a casa. Arrivederci alla stazione, mi lo dici che siamo arrivati.